La Carinaro Giovani Card nasce dall'impegno del forum dei giovani di Carinaro e con l'aiuto del delegato alle politiche giovanili Alfonso Bracciano. Nasce col proposito di coinvolgere i giovani carinaresi e le attività imprenditoriali di Carinaro al fine di costituire un circuito che possa agevolare gli uni e gli altri. L'età per entrare in possesso della card è dai 14 ai 29 anni. Tutti i possessori di questa card la potranno richiedere al forum dei giovani una volta fatta la presentazione. Tutte le attività che collaboreranno con noi avranno un'apposita vetrofania che indicherà che con l'attività sta collaborando con noi. La Carinaro Giovani Card nasce con il proposito di coinvolgere enti pubblici e attività imprenditoriali per creare un circuito che favorisca l'accesso agevolato dei giovani all'opportunità che il territorio offre in ambito culturale, artistico, sportivo, ricreativo e del tempo libero. I titolari della card sono riservati sconti e facilitazioni che sono offerte dai soggetti dalle aziende che aderiscono appunto al circuito Carinaro Giovani Card.